La Commissione Ambiente dell'Arsa ha dato l'ok per assegnare 300.000 euro, fondo voluto dal governo musumeci, per sostenere i comuni costieri siciliani a redigere il piano di utilizzo del demanio marittimo. In questo modo si possono aiutare concretamente i comuni che ad oggi non si sono dotati di questo importantissimo strumento di programmazione necessario alla crescita e allo sviluppo sostenibile delle risorse costiere. L'assessore regionale territorio ambiente, Toto Cordaro, ha già firmato il decreto e adesso toccherà agli enti locali inoltre alla richiesta di finanziamento al Dipartimento Ambiente della Regione. Una situazione che adesso diventa praticabile dopo che la Quarta Commissione del Parlamento regionale, presieduta da Giussi Savarino, ha approvato i criteri con cui il fondo, previsto da una norma di legge di stabilità del 2021, può essere distribuito ai comuni che presenteranno la richiesta. Il 45% pari a 135.000 euro sarà ripartito in quota fissa fra tutti i richiedenti aventi diritto. Il 50% pari a 150.000 euro sarà distribuito in misura proporzionale alla lunghezza del litorale costiero rilevata su dato Istat di competenza dei comuni richiedenti aventi diritto. Il restante 5%, 15.000 euro, è la quota riservata ai comuni in dissesto finanziario, da ripartire in particolare fra i richiedenti che versano in tale condizione.